Pubblici di, tu fai, tu vuoi, ma che è tutta roba mia! Carnevale e dialetto fanese vanno a braccetto da sempre, basti pensare alla maschera del carnevale, il voulon, lo spaccone popolano smargiasso che le spara grosse proprio in vernacolo e che dire poi della musica rabita che da sempre ravviva tutti i corsi mascherati e dei tanti temi sempre i presi in prestito dalla forte matrice idiomatica della città presenti in tutte le edizioni del corso mascherato. Il dialetto fanese quest'anno entra però dalla porta principale inserito grazie a una nuova iniziativa nel palinsesto generale carnevalesco e dal corollario di iniziative che vi girano attorno. Questa conferenza di oggi presenta un evento molto importante da una telefonata di Manuel De Mar che Federico Jelapi che è il piccolo attore che ha interpretato Pinocchio nel film di Garrone proprio ancora nelle sale, è nato un progetto, un progetto letterario che avrà la sua conclusione al carnevale di Fano, il 22 febbraio al palazzo del carnevale Loft Casarredo e il 23 Federico sarà con noi al carnevale, sarà sul carro e poi rimarrà con noi al carnevale anche per divertirsi e stare e vedere il nostro famoso carnevale insieme a Manuel De Marque. Quest'anno quindi complice un artista dell'artigianato locale, Manuel De Marque un pluripremiato poeta, diversi dialettali come Elvio Grilli ed una felice conoscenza con il protagonista del Pinocchio di Garrone il giovanissimo Federico Jelapi e che questo binomio trova così anche forma in un evento vero e proprio, fatto in collaborazione con i bambini delle scuole fanesi Bisogna ricordare che il dialetto è una ricchezza e quindi anche i bambini che si approcciano capiscono le assonanze, i modi di dire, i modi di intercalare l'espressione dialettale è l'espressione vera che arricchisce praticamente il discorso di una persona e c'è tutta una riscoperta, ecco da qui nasce l'idea di portare la divulgazione del dialetto nelle scuole i bambini si articoleranno o con un disegno o con un finale diverso del Pinocchio di Collodi io ho tradotto in dialetto fanese tutti i dialoghi del Pinocchio ci saranno quattro incontri alla libreria Mondadori di Fano ci sarà una giuria, ci sarà un presidente di giuria e verranno premiati con un matitone per quanto riguarda la parte, diciamo, il disegnino e con una penna artistica per quanto riguarda la parte del finale entrambi questi due trofei sono stati realizzati dal Pinocchio fanese, tra virgolette, Manuel De Marca perché lui mi ha invitato alla cinema ciao ciao Grazie.